Un ennesimo pareggio a reti bianche tra Perugia e Brescia che vale qualcosa per le rondinelle che continuano a sperare mentre al Perugia serve soltanto per agganciare nell'ultima posizione la pistoiese e non essere così solitario fanalino di coda. Primo tempo da dimenticare, ripresa invece leggermente più vivace e comunque con qualche episodio interessante. Una bella parata di malgioio, portiere bresciano a deviare con un colpo di reni la conclusione di testa di Bagni all'ottavo. Un minuto dopo è guida ad anticipare la girata di De Rosa mentre il Perugia reclama per un fallo su Bagni al ventesimo, autore Golparoli. Al ventiduesimo contropiede bresciano e Salvioni costringe Mancini a dimostrare di valere il suo diretto antagonista. Al quarantunesimo ultimo brivido pro Brescia, Bergamaschi ruba la palla a Frosio ma Mancini è in giornata di grazia ed anticipa di piede sventando una berfa.